pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il vangelo di questa domenica ci parla della guarigione di un sordomuto a gesù viene portato un sordomuto siamo in terra pagana e lo pregano di imporgli la mano gesù lo prende in disparte lontano dalla folla pone le dita nelle sue orecchie la saliva sulla sua bocca alza gli occhi al cielo sospira e quindi dice e fatà cioè apriti e subito gli si aprirono gli orecchi si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente la chiesa sin dall'origine ha visto un significato molto profondo in questo miracolo tant'è che nel sacramento del battesimo l'ultimo rito è proprio quello delle fatà il sacerdote segna la croce sulle orecchie sulle labbra del battezzato dicendo il signore ti conceda presto di ascoltare la sua parola e professare la tua fede dunque magari quest'uomo in fondo rappresenta ogni persona rappresenta ognuno di noi bisognosi di essere stappati di essere aperti alla relazione piena e profonda con dio e con gli altri quando accade ciò in prima istanza nell'incontro con gesù nel momento in cui aderiamo profondamente a lui e riceviamo il battesimo in quel momento noi veniamo innestati in modo vivo vitale in cristo e veniamo aperti alla relazione vera piena profonda con lui ma in fondo qui miei cari abbiamo qualcosa che siamo chiamati a vivere e rivivere ogni giorno ogni giorno abbiamo bisogno di essere portati in disparte a gesù perché lui possa mettere le sue dita nelle nostre orecchie e la sua saliva sulla nostra bocca cosa significa ciò vedete per quest'uomo che non poteva sentire e parlare essere portato in disparte e ricevere questi gesti voleva dire sentire un'attenzione speciale da parte di gesù dare modo a gesù di agire nella sua vita e gesù con questi segni gli fece capire cosa stava per fare lo stava guarendo nelle sue parti malate per noi per il nostro quotidiano cosa vuol dire vuol dire ad esempio lasciarci portare in disparte ritagliandoci del tempo per meditare la sua parola per pregare in modo che possiamo avere nelle orecchie le sue dita il dito di dio è figura dell'agire di dio delle sue opere in ebraico dabar vuol dire sia opera che parola dunque abbiamo bisogno di avere nelle orecchie le sue opere le sue parole e lasciare che lui metta sulla nostra bocca la sua saliva la saliva nel mondo antico era figura del respiro condensato dunque avere sulle labbra il suo respiro le sue parole la sua vita dunque ascoltare lui per poter parlare correttamente di lui per saper dare ragione della speranza che è in noi per rispondere in modo vero alle sfide della realtà per aver risposte sapienti condite della sapienza di dio in modo tale da essere sale e luce per chi abbiamo accanto dunque prima stare con lui stare con lui meditando la parola stare con lui pregando stare con lui incontrandolo nell'eucaristia stare con lui lasciando che lui ci parli anche attraverso catechesi attraverso libri di spiritualità nutrienti lasciare insomma che possiamo essere da lui nutriti per poi poter dare risposte parole sapienti cariche d'amore cariche di luce cariche della sua bellezza ma ciò vedete miei cari non tocca soltanto il rapporto con dio in fondo questa parola è fatà apriti abbiamo bisogno di lasciarla risuonare ogni giorno nel nostro cuore anche in ciò che inerisce il rapporto con gli altri quante volte tendiamo a rinchiuderci in noi stessi ad esempio in famiglia c'è un conflitto c'è una discussione qualcosa ci dispiace qualcosa è andato storto cosa facciamo musi settimanali silenzi tombali giorni e giorni senza rivolgersi la parola creando pian piano steccati e poi muri non serve apriti tempo che sbollenti un po vai poi incontro all'altro riapri il discorso cerca di capire il perché mettiti nei panni dell'altro cerchiamo insieme una soluzione per crescere attraverso quel conflitto ma apriti non rinchiuderti anche perché più ci rinchiudiamo più ci isoliamo e più se siamo in preda alla tentazione col diavolo dialoghiamo e così nel nostro spirito soffochiamo apriti quando ad esempio aspetto che siano sempre gli altri a fare il primo passo e a venirmi incontro quanto è importante aprirsi all'altro andare incontro accogliere questo nel quotidiano nell'amicizia ma soprattutto in una comunità cristiana quanto è bello sentire la parrocchia comunità la chiesa comunità andare incontro ai nuovi andare incontro a chi arriva essere accoglienti apriti all'altro non aspettare che sia sempre lui a fare il primo passo questo per noi anche in comunità è un punto tanto importante andare incontro all'altro ma quello non viene quello non mi ha salutato e fai tu fai tu un passo incontro magari non ti ha visto o era sovra pensiero o si imbarazza o si vergogna va agli incontro apriti all'altro oppure quante volte ci blocca la vergogna o la paura di sbagliare e così centrati su di noi non andiamo incontro alle persone perdiamo occasioni di amare perché siamo rinchiusi in noi stessi pensiamo troppo a noi stessi e se poi sbagliassi e se dicessi una parola di troppo e se quello poi pensasse male di me e se gli dicessi questa cosa e ci rimanesse male apriti apriti all'altro va agli incontro chi ama di più fa il primo passo cerca di costruire ponti di vivere relazioni belle pensa voler bene a chi è davanti e se il voler bene a chi ho davanti ancora più profondamente l'amare chi ho davanti mi richiedesse di esortare confortare correggere l'importante che come disse sant'agostino tutto parta dalla carità e tenda alla carità chiediamo dunque miei cari questa grazia di aprirci aprirci sempre più ad un rapporto vero pieno e profondo con il signore lasciare che lui stappi le nostre orecchie e condisca della sua sapienza le nostre parole apriamoci alla relazione con gli altri per vivere relazioni sempre più belle significative seminando amore soprattutto laddove amore non c'è o manca che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti